Lo ritiene l'uovo di Colombo e il suo auspicio è che possa dare uno slancio al fine di uscire dalla crisi sociale e ambientale che Gela sta vivendo. È il pensiero dell'imprenditore Davide Melfa, rientrato in città dopo un'esperienza lavorativa in Spagna. Ha creato, grazie ad una cordata di imprese, un progetto tutto siciliano. Si tratta dell'olio di semi di canapa biologico. È ricco di Omega 3 e acido gamma linoleico. Si potranno aiutare a mantenere bassi i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue e a mantenere o regolarizzare l'equilibrio ormonale. Si possono inoltre purificare i terreni. La cordata di imprese impegnate in questo nuovo progetto siciliano sono la nuova impresa spagnola Sicil Canamo, la Make Services, l'Università Agraria di Catania e altri investitori. La canapa, che non è la cannabis che si confonde comunemente, ma è della stessa famiglia, è una risorsa che potrebbe, a Gela come nel mondo, garantire un'alternativa produttiva. Non solo produttiva perché dà la possibilità da millenni di poter generare delle materie prime e delle risorse importantissime, anche perché dà la possibilità di garantire un tema fondamentale che è la salute, perché è anche una forma di medicinale, è una pianta che bonifica il terreno e quindi riesce ad assorbire le diossine e metalli pesanti, immaginiamo per cui a Gela che valore potrebbe avere. È una pianta altamente sostenibile perché non necessita pesticidi e necessita poca acqua, quindi ideale per Gela, ma ideale nel mondo. La canapa industriale è stata utilizzata in tutto il mondo fino al 1940, quando fu soppiantata dall'avvento della petrolchimica, da cui si iniziarono a ricavare combustibili medicinali, farmaci, tessuti che insieme alla carta e altri migliaia di prodotti erano sempre stati prodotti dalle coltivazioni di canapa. Questa pianta riesce ad assorbire la diossina e i metalli pesanti dei terreni contaminati, permettendo bonifiche naturali e a basso costo. Ogni prodotto ricavato dalle coltivazioni di questa pianta produce occupazione e benessere. Giuseppe Nicosia, educatore alimentare. Abbiamo il seme di canapa che è uno degli alimenti più nutrienti al mondo. Dal seme di canapa ricaviamo questo preziosissimo olio, questo ad esempio è uno dei 50.000 derivati, che ha per noi un utilizzo alimentare, ma in realtà ci nutre una medicina quasi, perché riesce a risolvere tanti i nostri problemi, come i livelli alti di colesterolo o i trigliceridi. Quest'olio si usa anche nella cosmesi, è eccezionale da passare sulla pelle contro la pelle secca, la pelle è anche irritata dal sole o dal freddo in questo periodo. Quindi sostanzialmente davvero torniamo ad avere questa pianta che è stata per noi risorsa. Ricordo sempre che l'America è stata scoperta grazie alla canapa, perché sulle caravelle paradossalmente c'era più canapa che legno. A marzo avranno inizio le prime coltivazioni su 50 ettari di campo a gel a fini di bonifica e come assicura Davide Melfa, ricaveremo dalla stessa canapa coltivata dei biomattoni ed un composto di calce e canapa che viene impiegato al posto del cemento e in alternativa produrremo etanolo di canapa e biometano. Previste coltivazioni differenziate in tutta la Sicilia. Ai piedi dell'Etna si produrrà canapa per alimenti e sarà costruito un ecovillaggio energeticamente autosufficiente, dove sarà applicato il core business del turismo ecologico alla cultura della canapa. Grazie.